Nell'esortazione apostolica, gaudete ed esultate, Papa Francesco affronta anche il tema dell'umorismo e dice è una grazia da chiedere tutti i giorni. Siamo certi che questa grazia il nostro prossimo ospite l'ha già ricevuta e sarete d'accordo con noi subito dopo averlo ascoltato perché lo abbiamo già pronto in collegamento Skype. Eccolo qui Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana, conduttore di programmi e autore tra gli autori del sito vinonuovo.it. Bentrovato Fabio, grazie per essere qui. Bentrovata, bentrovata Anna Maria, è un piacere essere con voi, grazie davvero di questo invito. Il nostro piacere è doppio e soprattutto con gioia che ti ritroviamo perché nel momento in cui è venuto fuori questo tema, l'ironia è una cosa seria, ho pensato a te. Ti ho conosciuto durante il meeting dei giornalisti cattolici e non di Grottamare e lì ha insomma relazionato sull'argomento, sul tema. Sei un tipo ironico, autoironico soprattutto e siccome ti occupi anche di comunicazione vogliamo sapere da te come si fa a coniugare comunicazione cattolica, umorismo e ironia. Allora devo dire che il mio curriculum mi ha aiutato, mi ha aiutato anche mio padre che era una persona molto ironica che mi ha insegnato l'umorismo, anche se mi diceva stai attento quando lo usi perché non tutti lo capiscono. Però ho capito, ho avuto l'esperienza quando ero più giovane anche di fare del teatro, di dedicarmi al cabaret come si dice. Quando poi sono diventato una persona seria, un giornalista vaticanista, ho provato un po' a vedere come mai nella comunicazione cattolica non ci fossero quasi mai degli accenti così ironici, umoristici, non si sorridesse molto. E studiando un po', soprattutto leggendo alcuni numeri della civiltà cattolica, ho scoperto che invece, come dicevi anche tu e come ci insegna Papa Francesco, l'umorismo è una virtù cristiana. Santo Masomoro diceva, beati quelli che sanno ridere di se stessi perché non finiranno mai di divertirsi. L'autoironia è una grandissima virtù e i santi, i saggi, le persone che hanno raggiunto un certo distacco anche dalle cose materiali, sono persone leggere. Quindi la leggerezza è una grandissima virtù. E quindi mi sono chiesto anche in quell'occasione, in quel convegno in cui c'eri anche tu, come mai nella comunicazione cattolica facessimo così fatica a essere leggeri, sorridenti. E devo dire che da allora in poi stanno crescendo, secondo me, le manifestazioni anche di un modo di comunicare più leggero, più sorridente, vignettisti cattolici, articoli più, diciamo, che sanno anche un po' guardare con il sorriso la realtà ecclesiale. Secondo me la serietà non è una virtù, come diceva Chesterton. Quindi riuscire a essere autoironici e a saper sorridere è una grandissima capacità. Soprattutto, lo dico anche in questi ormai mesi faticosissimi di pandemia, portare un sorriso, saper informare, ma in maniera non pesante, secondo me è un compito che abbiamo. È vero, aiuta tanto. Tu Chesterton lo citi spesso, io ne cito un altro, Umberto Eco. Nel nome della rosa addirittura il riso è ritenuto il nemico numero uno della religione. È cambiato tantissimo, insomma, è cambiata tantissimo la visione dell'ironia, dell'umorismo, proprio nella comunicazione cattolica. Tu lo sottolineavi. Perché in altre religioni si ha questa difficoltà? Ci si offende se si fa qualche battutina in più. Dopotutto noi abbiamo Papa Francesco, che è un'ottima guida, un ottimo esempio per essere ironici, autoironici. Ce lo insegna bene? Sì, diciamo, il tema è molto delicato, perché come sai, il proverbio dice scherzare con i fanti, ma non con i santi. E davvero a volte, e questo introduce un tema importante, a volte l'umorismo, quando diventa aggressivo, quando diventa caustico, quando vuole attaccare qualcuno, allora ha scelto la strada sbagliata. E credo che mancare di rispetto sulle cose di fede sia sempre un errore, anche se a volte la satira può aiutare a capire anche i difetti di una religione, i difetti di noi che siamo peccatori, che siamo uomini. Però quello in cui non dobbiamo mai cadere è il fondamentalismo. Cioè il fondamentalismo è il contrario dell'umorismo, dell'ironia. Quando appunto non ci si sa guardare con distacco, non si sanno riconoscere i propri difetti. Quindi nulla di ciò che è terreno va preso sul serio, potrebbe dire una sceta, un santo. E in fondo è la stessa cosa che dice un umorista, un comico. Non dobbiamo prenderci sul serio, anzi l'umorismo cristiano non nasconde i nostri difetti. Li mette in evidenza, ma li guarda con gli occhi di Dio, li guarda con amore, con un sorriso. Non bisogna ridere degli altri per distruggerli, bisogna ridere di se stessi, ridere di noi stessi, guardando i nostri difetti e amandoci, nonostante questi difetti così come siamo amati. Questo credo sia l'atteggiamento più giusto. Anche perché sempre un padre gesuita, quindi come Papa Francesco, James Martin, ha scritto un libro dal titolo anche Dio ride, quindi Dio vuole che noi sperimentiamo la gioia. E lo ribadisce spesso Papa Francesco. A questo proposito, guardiamo insieme Fabio, poi voglio che tu lo commenti, un brevissimo stralcio proprio in cui Papa Francesco fa una battuta in un incontro con il Movimento dei Focolari a Roma lo scorso febbraio. Si dice che i focolarini sorridono sempre, sempre sono col sorriso. E mi ricordo una volta che ho sentito parlare sull'ignoranza di Dio. E mi ha detto, ma tu sai che Dio è ignorante? Ma ci sono quattro cose che Dio non può conoscere. Ma quali ne sono? Eh, cosa pensano i gesuiti? Quanti soldi hanno i salesiani? Quante congregazioni di suore ci sono? E di che cosa sorridono i focolarini? Ecco qua, in effetti è vero, è un po' una caratteristica che li contraddistingue i focolarini. Tu sicuramente li conosci. Forse probabilmente ti sei anche soffermato nei tuoi programmi radio su questa battuta e su tante altre battute che Papa Francesco fa. Racconta anche Barzellette. Possiamo dire dall'umorismo secondo Papa Francesco, come si dice nei Vangeli, no? Cosa trai? Ma diciamo, a me piace sempre sottolineare la continuità tra i pontefici. Pensa che il predecessore di Papa Francesco Benedetto XVI disse una volta in un'intervista che gli angeli volano perché non si prendono troppo sul serio. Quindi anche Benedetto ha questo gusto per l'umorismo. Papa Francesco ha una caratteristica particolarissima che sarà definita anche da dei linguisti. Cioè ha un modo di parlare che è dialogico. Lui, soprattutto quando parla a braccio, vuole sempre chiamare in causa l'interlocutore. Non fa monologhi, non fa soliloqui, ma lui dialoga. Quindi anche quando parla in pubblico gli piace ascoltare in qualche modo l'uditorio e quindi provocarlo come si fa appunto con la Barzelletta, che è un ottimo metodo che può usare un oratore appunto per creare un dialogo. E qui mi aiuta questo a sottolineare come l'umorismo, l'ironia, siano anche strumenti per aprire un dialogo. Io in quell'occasione anche a Grotta a Mare lo sottolineavo. Noi ormai viviamo, per la maggior parte no, però per una gran parte della nostra giornata sui social, dove spesso si finisce a litigare in maniera aggressiva e infeconda. Invece il sorriso, la leggerezza, l'umorismo, se usato appunto in maniera autoironica, non per aggredire, sono strumenti per stemperare i contrasti e anzi per creare dei legami. Quindi Francesco usa questa tecnica proprio per creare un legame di dialogo, di scambio con l'uditorio. E appunto ha questa grandissima capacità anche perché ha la capacità di mettersi in empatia con l'uditorio, sia nei momenti drammatici, ricordiamo il suo primo viaggio a Lampedusa, in cui assunse proprio un tono che era influenzato dal grande clima di sofferenza di quell'isola e di fronte a tante morti di migranti, sia nei momenti invece in cui magari si rischia un po' quel linguaggio ecclesialese un po' autoreferenziale, lui lo sa spezzare con questo tipo di umorismo. E' dei grandi oratori la capacità di saper far sorridere, secondo me. E' anche sinonimo di intelligenza, oltre che di umiltà. Fabio, sono volati dieci minuti, come vedi? Dicevi, erano tanti, erano tanti, però ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' di più la tua esperienza personale. Sei ironico, autoironico, ti è mai capitato di dire cosa è seria di non essere creduto? Perché a volte succede anche questo. Ah, sì, sì. Ma diciamo, io uso di solito la tecnica di dire in maniera seria delle cose stupide ed è, lo faccio anche in redazione, a volte per mettere in difficoltà anche i colleghi più giovani e per estemperare un po' l'ambiente. E a volte non essere preso sul serio, sì, mi capitava, mi ricordo quando facevo parte di gruppi parrocchiali da giovane, ogni tanto volevo fare un intervento serio e prima che iniziasse a parlare la gente già rideva perché pensava volesse scherzare. E questo, infatti, è l'avvertimento che mi faceva mio padre quando ero più picco, mi c'è attento a scherzare sempre e poi non ti prendono più sul serio. Però forse preferisco non essere preso sul serio, dai, perché quando ti prendono sul serio poi a volte, insomma, incorri anche in qualche guaio. Insomma, mi piace che la gente mi consideri, non dico un buffone, però una persona che sa essere ironico come dicevi, sa essere ironica come dicevi tu. Sì, sì, è così. Fortunati i tuoi colleghi. E con me è proprio una perfetta inclusione. Abbiamo cominciato con il ricordo del papà che ti ha un po' così inculcato su questa via, innestato, se vogliamo così dire, e abbiamo concluso con il papà. Ottimi consigli arrivano dai padri. Grazie Fabio, grazie davvero per la tua disponibilità e per averci arricchito anche questo spazio con la tua professionalità. Grazie a voi, grazie a voi. È stato un piacere. Grazie di cuore, buona giornata a te. Noi continuiamo con il nostro programma subito dopo una breve pausa.